Mi dispiace tanto per i cittadini di Lasterina che comunque rispetto perché è sempre un ponte interessante medievale, però col ponte della Gioconda non c'è niente a che vedere. A sostenere che il ponte dietro lo sfondo della Gioconda è Ponte Buriano e non Ponte Romito, è l'architetto Massimo Ricci, oggi esperto di restauro dei monumenti del Forum UNESCO dell'Università di Valencia, già docente di architettura ed esperto della cupola del Brunelleschi. È venuto appositamente ad Arezzo per ribadire la sua tesi. A portare invece la tesi che sarebbe il ponte Romito è stata una ricerca coordinata dallo storico Silvano Vinceti, resa nota un mese fa. In veste di esperto dell'UNESCO ho fatto gratuitamente una perizia su quello che è rimasto del ponte del Romito, quindi lo sono andato a vedere, me lo sono studiato e posso tranquillamente affermare che con la Gioconda non c'entra nulla. Tanto per cominciare a fermaricci come tutti i ponti di epoca medievale, agli archi a tutto sesto e non ellittici, come invece a Ponte Buriano, ma non solo. Il contesto paesistico in cui ha inserito il ponte del Romito, sul lato destro, ha una struttura muraria enorme che non è assolutamente rappresentata nel quadro della Gioconda, perché quella è una struttura originale dell'epoca. La particolarità poi di Ponte Buriano sta nel fatto che a differenza di Ponte Romito e di tutti i ponti medievali, ai bastioni a livello del piano stradale, Ponte Romito li ha sull'acqua un metro sopra la linea di massima piena. Per Ponte Buriano, probabilmente per poter risparmiare continuaricci, si sono costruiti quelli che in gergo si chiamano timpani più sottili. I bastioni, dunque, che arrivano al piano stradale, hanno la funzione di contrastare le spinte verso l'esterno dei carichi che gravano sul ponte. Un unicum, dunque, che non è sfuggito a Leonardo da Vinci. Perché Leonardo da Vinci, essendo una persona estremamente intelligente e molto preparato anche sulla tecnica costruttiva, non gli è sfuggita questa caratteristica di questo ponte che gli ha appena descritto. E quindi ha trovato un ponte che ha destato il suo interesse, perché questo è come dire a un marziano rispetto ai suoi consimili. E l'ha riportato giustamente nel quadro della Gioconda. Ma, addirittura, siccome c'aveva una mano eccezionale, quei pochi tratti che si riescono a interpretare dal quadro stesso, dimostrano che i bastioni arrivano fino al piano di calpestio della strada. Le volte sono volte littiche ribassate. C'è qualcuno che dà il cefile sul numero degli archi, ma è chiaro che gli archi che non si vedono sono coperti dagli alberi. Su questo tema è in programma a settembre una conferenza scientifica organizzata dall'Associazione Brigata degli Amici dei Monumenti, che ricorderà anche gli studi dell'aretino Carlo Starnazzi. Con le sue ricerche fu uno dei primi negli anni 90 a sostenere che il ponte sullo sfondo della Gioconda è proprio Ponte Buriano.